Allora, benvenuti, io sono Gaetano Larosa, istruttore esaminatore Red Hat dal 2002 e mi occupo di formazione. Mi occupo di formazione sui vari argomenti che tratta Red Hat, quindi le tecnologie sulle quali lavoro Red Hat. Io faccio parte di un'azienda che si chiama Extraordi, che è la formazione ufficiale Red Hat in Italia. Di cosa vi voglio parlare? Vi voglio parlare dello skill, di come coltivare lo skill per arrivare a gestire correttamente e a presentare correttamente al nostro pubblico, al nostro target, le nostre competenze in un ambito verticale, specifico, come ad esempio OpenStack. Quindi il titolo della presentazione ci parla come passare da uno skill verticale a una conoscenza strutturata e completa, nonché certificata, in un contesto complesso, in un contesto complesso che si evolve a una velocità enorme. Come sapete OpenStack è un progetto estremamente variegato, con vari componenti, tante logiche dietro OpenStack e si evolve a una velocità enorme. Abbiamo un ritmo di crescita, di evoluzione della tecnologia che è davvero importante. Stare dietro a questa evoluzione non è banale, richiede sforzo, richiede energie, richiede tempo. Come poter star dietro a questa evoluzione? Sono andato un po' avanti con la slide rispetto a quello che è il mio programma. Come vi dicevo, come star dietro a un'evoluzione del genere? OpenStack è coltivato e supportato da una community, una community che è molto potente, veloce nell'evoluzione. Pensate che è il secondo progetto open source nel quale ci sono più contributori. Il primo è il kernel, il secondo OpenStack, ma credo che manchi poco a un sorpasso. Quindi c'è molta collaborazione da parte della community e da parte delle aziende. La community è spesso fatta da ingegneri delle aziende che contribuiscono. Sappiamo che Redate è un contributor di OpenStack, ma tante altre sono contributor. e un progetto open source ha la capacità di crescere come nessun altro, ma per arrivare ad entrare in contesti complessi, contesti come una realtà enterprise, come può essere il mondo finance, il mondo telco, il mondo media, necessita di quel salto di livello che l'open source fa per entrare nell'enterprise, grazie a quello che può essere definito lo SLA, il service level agreement, cioè come possiamo su un software open source libero, aperto, garantire un livello di servizio da contratto, il famoso SLA, service level agreement. Bene, questo lo fanno le aziende. In un'ottica del genere Redate si occupa proprio di fare questo. Redate fa business su software open source, contribuendo al software open source, garantendo per l'appunto il salto verso l'enterprise. E questo vale per tutti i progetti, ovviamente compreso OpenStack. OpenStack è un progetto che copre tante logiche. In OpenStack si parla di network, in OpenStack si parla di virtualizzazione, si parla di storage, software defined storage, software defined network, si parla di virtualizzazione, si parla di scalabilità, scalabilità infinita. E per poter avere uno skill adeguato su tutte queste componenti, sul network, sulla virtualizzazione, sullo storage, sull'API, sulla security, sulle identity, necessitiamo di tanto tempo da dedicare a testare la tecnologia, a provare, a conoscerla, a fare errori. Fare errori è il miglior modo per conoscere davvero la tecnologia. Testare, provare, documentare, riprovare. Il famoso metodo scientifico. Però questa cosa, questo processo richiede tempo. Il processo di testare richiede tempo. E in uno strumento, in una piattaforma come OpenStack, che come sappiamo è un infrastructure as a service, cloud provider, andiamo a impattare su diversi fronti. Andiamo a impattare sul fronte utente. L'utente che deve utilizzare i tenant di OpenStack, i progetti di OpenStack, crearli e ottimizzarli secondo le proprie necessità. È necessario uno skill per fare questo. È necessario uno skill che sia legato a tutte le sue componenti. Ma non solo. Il passo successivo è amministrare una piattaforma come OpenStack. Amministrarla non è per nulla banale, anzi, lo skill per amministrare, installare, configurare, tunare, manutenere, gestire una piattaforma come OpenStack in un contesto mission e business critical è molto alto. Ed è continuamente da aggiornare, come accennavamo prima. Ed è continuamente da debagare, testare, manutenere. Cioè ci sono tanti passaggi da fare. E questo lavoro lo possiamo fare in due modi. Come? Spendendo del tempo, tanto tempo, testando, installando, avendo un ambiente di test sviluppo, ambiente di preproduzione sul quale fare i test che poi andremo a applicare in produzione. L'ambiente di test sviluppo che può essere variegato, che può essere diverso, perché magari testiamo versioni diverse, patch diverse e così via. Deve essere replicabile. Tutto questo richiede tempo. Richiede tempo, dedizione, studio matto e disperato, come lo chiamiamo noi. E solo dopo un percorso fatto col tempo speso riusciamo a poter essere adeguati per gestire un contesto critico di produzione. E dall'altro lato abbiamo il training. Attenzione, il training, la formazione, da sola non basta. Da sola sicuramente utile, ma di fianco al training ci dobbiamo mettere comunque del tanto impegno. Però il training ci dà una serie di vantaggi enormi. Ci dà una serie di vantaggi sulla velocità di apprendimento. Ci dà una serie di vantaggi sulla conoscenza strutturata. Come vi dicevo, io faccio l'istruttore dal 2002 e ho appena festeggiato 15 anni di questo lavoro. Settembre 2002, settembre 2017. E in questi anni ho avuto tantissime persone in aula. E una cosa che ho incontrato spesso è dei grandissimi professionisti che sono venuti in aula a seguire un corso con uno skill eccezionale, super verticale su una tecnologia, su un argomento. Nel momento in cui magari durante il corso andavamo a toccare degli argomenti laterali a quello skill, come si parlava di Linux e noi approfondiamo le espressioni regolari, bene, ci sono delle carenze. Quindi il training, ho incontrato delle carenze. Quindi il training ha questo enorme vantaggio di accelerare moltissimo il tempo e di dare una conoscenza strutturata dalla A alla Z, non salta i punti. Ovviamente perché con il self-study, con lo studiare da solo, magari diventiamo super cintura nera di database, di Postgres, di MySQL. Però ci manca la conoscenza di base sul sistema operativo, qualche conoscenza di base sul sistema operativo che è necessaria indispensabile per supportare correttamente l'applicazione, ad esempio, detto il database. Quindi self-study l'abbiamo fatto tutti, per carità, e continueremo a farlo tutti, rispetto a training. Il training ci dà questo enorme vantaggio dell'essere un catalizzatore, un acceleratore enorme della conoscenza. Tra l'altro, in aula, mi confronto, mi confronto innanzitutto con l'istruttore. L'istruttore è un tecnico, è un informatico, è un professionista che ha già fatto, ha testato e ha provato e ha fatto degli errori. Quindi è in grado di, come dire, trasmettere questa conoscenza. Non solo ha un altro enorme vantaggio, che è un vantaggio innanzitutto per l'istruttore stesso. Quello di vedere lo stesso argomento da mille punti di vista diversi. Perché nel momento in cui spiego una determinata tecnologia, poi ognuno la personalizzerà, la contestualizzerà in relazione al proprio lavoro, al proprio settore, alla propria quotidianità. E quindi le domande che verranno fatte saranno in relazione al proprio contesto. Quindi cosa succede? Che l'istruttore riceve delle domande da mille punti di vista diversi, dello stesso argomento. E questo dà una visione d'insieme che poi sarà eccezionale nel trasmettere la conoscenza alle prossime persone che incontrerà. Quindi da un lato tempo, acceleratore del tempo. Dall'altro lato confronto. Confronto con l'istruttore. Confronto con le altre persone in aula. Altro vantaggio non banale. Confrontarsi con le altre persone in aula che seguono lo stesso corso, che hanno più o meno le stesse necessità di crescita, di formazione. È molto molto utile. Quindi se da un lato studiando da soli cosa facciamo? Cerchiamo la documentazione, studiamo, proviamo, testiamo. Poi facciamo gli errori che ci permettono di comprendere dove tornare e dove migliorare. Poi impariamo e a quel punto testiamo di nuovo. Non ci dimentichiamo di documentare. Un piccolo dettaglio non banale che tutti dimentichiamo prima o poi. Quindi una volta capito questo passaggio abbiamo compreso dove dobbiamo andare a puntare per conoscere la tecnologia. Se questo percorso ci viene indicato, ci viene descritto, ci viene suggerito in un percorso strutturato, in un percorso full time. Nel momento in cui io sto in aula, faccio solo quello, penso solo a quello, il mio focus è totale. Energy flows where focus goes, dicono gli inglesi. Quindi è molto importante essere focalizzati su di un determinato argomento. L'aula ci permette di essere totalmente dedicati per quei cinque giorni alla nostra tematica e questo ci permette di accelerare fortissimamente il nostro processo di apprendimento. La formazione è un enorme catalizzatore, acceleratore di reazione. La reazione che per noi è, per l'apprendimento, accelere in modo incredibile con la formazione. Io sono un grande fan della formazione, non solo dal lato istruttore, ma anche dal lato studente. Su tutti gli argomenti che sono interessanti per me cerco come potermi formare, sia di presenza sia online, quello che sarà necessario, il percorso migliore per le mie esigenze. E ho scoperto sulla mia pelle come in più di un'occasione fare un corso di due, tre, quattro, cinque giorni mi ha garantito uno skill, una conoscenza, un'esperienza, mi ha fatto acquisire un'esperienza di anni. E quello è il valore. Quindi accelerare in modo fortissimo le mie competenze. Ma in che senso accelerare le competenze? Le competenze hanno una piramide. Questa piramide l'ho trovata tempo fa e secondo me è molto carina. E va a descrivere su quali livelli si attestano le nostre competenze. Partiamo dalle competenze generaliste, quindi di tutto un po', che hanno un certo valore, hanno un valore che è relativamente basso. Esempio pratico, se voi andate dal vostro medico curante, dal medico generalista, perché vi fa male un ginocchio, cosa vi farà il medico? Vi manderà da uno specialista, perché non è ingrato, non ha lo skill, non ha le competenze per curare quello specifico problema. Quindi passiamo da una conoscenza generalista, che vale quel che vale, a uno skill verticale, a una competenza chiara e specifica su quello specifico argomento, quindi focalizzata. Da lì dobbiamo fare il salto, e questo è il passaggio che descriverò tra poco, fare il salto da una competenza verticale a un qualcosa che sia provabile e soprattutto come dire, condivisibile. Quindi una conoscenza verticale ma strutturata e soprattutto provata, testata, spendibile. Spendibile nei miei progetti, spendibile all'interno della mia azienda, spendibile al mio pubblico, spendibile ai miei clienti. Ovviamente questo va a salire verso livelli un po' più alti, come per esempio legato ad uno specifico argomento, possiamo avere un livello superiore che è il contributor, quindi colui che contribuisce alla conoscenza generica, alla conoscenza pubblica di questo specifico argomento, per poi arrivare chiaramente all'apice, al riferimento dell'argomento che stiamo trattando, come può essere ad esempio il creatore del progetto, della conoscenza, dello scopritore, chi ha portato avanti, ha portato alla luce questa determinata tecnologia, conoscenza e quant'altro. Se la trasportiamo in un contesto un po' più familiare, abbiamo l'informatico generalista, come dicevo, quello che conosce un po' di tutto. Poi grazie allo studio, che può essere la formazione in aula, può essere il self study, quello che è più adatto alle nostre corde, diventiamo specialista, lo specialista di quel determinato argomento, riconosciuto, indicato e spendibile sull'argomento, ma per passare da generalista a specialista dobbiamo dedicare energie, forze e impegno. Facciamo il salto superiore, da specialista, quindi da uno skill verticale, dobbiamo arrivare ad essere uno specialista certificato. Ci vuole qualcuno che attesti il mio valore, il mio valore sul progetto. Nel momento in cui io firmo un progetto, nel momento in cui approvo un progetto, nel momento in cui verifico, valido, certifico, devo essere spendibile grazie all'essere identificato come uno specialista certificato. In questo percorso si contestualizzano i corsi di formazione e la certificazione. Ovviamente parliamo di OpenStack, quindi siamo qui per OpenStack, la formazione su OpenStack punta alle certificazioni, punta ai livelli di certificazione in Red Hat sulla piattaforma ufficiale Red Hat per OpenStack. Quindi formazione ci porta ad essere specializzati, gli esami certificazione in Red Hat ci portano ad essere specialisti certificati. Giusto una nota sugli esami, gli esami certificazione sono performance oriented. Cosa significa? Significa che testano gli skill reali del candidato tramite prove pratiche, quindi non ci saranno domande alle quali rispondere, ma ci saranno sistemi da installare, configurare, tunare, mettere in produzione e debuggare. Quindi queste certificazioni garantiscono un livello importante di skill e sono anche piuttosto impegnative, gli esami sono piuttosto impegnative. Ovviamente poi saliamo di livello, dallo specialista certificato arriviamo fino all'autorità sull'argomento, sul campo. Qui ad esempio abbiamo la fortuna di avere diverse autorità nel mondo OpenStack, dal mio carissimo amico Gippa Giuseppe Paterno all'intervento di stamattina e molti altri. Quindi abbiamo delle autorità che sono dei riferimenti assoluti riguardo al nostro argomento. Qui andiamo oltre chiaramente, andiamo oltre la formazione, oltre la specializzazione, lì è in dedizione totale. Per poi arrivare ovviamente alla celebrità, al picco dello skill, della conoscenza che è la celebrità. Se trasportiamo ad esempio questo nel mondo Linux, Linux Torvalds è la celebrità nel mondo Linux. Quindi nella piramide della conoscenza questi passaggi sono importanti e devono essere chiari e farci fare il salto di qualità da un livello all'altro è estremamente di valore. Estremamente di valore, ad esempio sul mondo OpenStack. Su OpenStack abbiamo un percorso, un training path, un percorso di formazione con diversi livelli di certificazione. Cosa studiano i corsi legati a questo percorso di formazione? Abbiamo diversi corsi come il CL110, che è il System Administration 1 su OpenStack, quindi come gestire e utilizzare una piattaforma OpenStack comprendendo nelle logiche tutti gli strumenti interni alla piattaforma. Sono cinque giorni di corso intensi nei quali si sviscerano tutti gli strumenti, le componenti di questa piattaforma OpenStack, della nostra piattaforma OpenStack, cioè la Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform, che come sapete è la versione Enterprise del progetto Community che si chiama RDO e nel CL110 svisceriamo tutti questi argomenti. Il CL110 è seguito dal CL210 che è l'OpenStack Administration 2. Secondo livello di amministrazione su OpenStack dove qui andiamo a lavorare sulla logica complessa della scalabilità, installazione e configurazione dell'intera piattaforma, quindi parliamo di Tripolo, Undercloud, Overcloud e la sua scalabilità. Sapete che il passaggio critico di OpenStack, cioè caratteristica fondamentale di OpenStack è la sua scalabilità infinita, o quantomeno così dovrebbe essere. Per poter gestire la scalabilità in modo elastico dobbiamo avere gli strumenti per far crescere e gestire on demand la nostra piattaforma. All'interno del corso CL210 studiamo proprio questo, quindi studiamo come installare, configurare e tunare tutte le varie componenti in base a un progetto che abbiamo definito, in relazione ad un uso specifico, quindi che può essere quello classico canonico oppure qualcosa un po' più custom. Attenzione perché questi due corsi, il CL110 e il CL210, sono i corsi che preparano al primo esame di certificazione, cioè l'esame RHCSA su OpenStack Platform. L'esame si chiama EX210, sono quattro ore di esame nel quale viene chiesto di installare, configurare e tunare la piattaforma, secondo le direttive di un tema d'esame. Essendo performance oriented verrà misurato esattamente il risultato, verrà misurato che la piattaforma si comporti in quel modo, faccia quello che gli si è chiesto. Lo step successivo è il CL310 OpenStack Administration 3 che tratta e approfondisce le due logiche di scalabilità complesse di OpenStack nel profondo, che sono Neutron, quindi la parte di Networking, Software Defined Networking tramite Neutron e la parte legata allo storage, quindi parliamo in particolar modo di Ceph, legato all'utilizzo di Cinder e Ceph per scalabilità. I modi complessi. CL310 che è seguito anch'esso da un ulteriore esame che è il livello superiore che è la Red Hat Certified Engineer su OpenStack Platform. In più di un'occasione, in tante tante occasioni, un percorso di formazione che ha portato il mio skill a un altro livello, lo skill degli studenti a un altro livello, ha determinato un salto di qualità. Un salto di qualità che addirittura in più di un caso, anzi in parecchi casi è diventato un life changer, cioè un cambio di vita. Ve ne racconto una in particolare, la più carina. Una persona che ha fatto un mio corso, il CL110, il 210 OpenStack, nel 2015, persona già skillata su Linux, skill di livello medio, non conosceva OpenStack se non le introduzioni, le basi, ha fatto il corso, ha fatto l'esame, si è certificato su OpenStack, ha dedicato tanto impegno a questa cosa, ha pubblicato con molto orgoglio la propria certificazione su LinkedIn e da lì ad un mese è stato contattato, ha fatto i vari colloqui e adesso è a Dublino in Amazon e lavora a Dublino. Trasferendo anche tutta la famiglia, quindi moglie e figli, se non è un life changer questo. Un passaggio importante è i corsi funzionano, la formazione funziona, è fatta bene, sentiamo cosa hanno da dire chi ha partecipato ai corsi che abbiamo tenuto in questi anni. Ne abbiamo fatti tanti, ne abbiamo fatti di tanti argomenti, siamo otto istruttori che pedaliamo tanto su tutti i corsi, in questo momento ci sono quattro corsi in erogazione in giro per l'Italia e questo è quello che scrivono le persone che hanno frequentato i nostri corsi, devo dire che siamo piuttosto soddisfatti di quello che dicono. Ultima slide, in realtà non è proprio l'ultima, qui ci sono i miei contatti, la mia email, il nostro sito è extraordi.com e vi consiglio di andarla a visitare, telefono, se vi va e se ci siete su LinkedIn chiedetemi il contatto, mi farà molto piacere accettare la connessione. Abbiamo anche un canale YouTube nel quale pubblichiamo un po' di video interessanti riguardo le nostre tecnologie. OpenStack? No, è consigliato essere un RHCSA, è consigliato ma non obbligatorio. figurati, una nota, se qualcuno è interessato ci faccia un fischio. Ho rubato questa frase a qualcuno un po' più famoso di me, che diceva nelle sue slide, one more thing, se la cosa vi interessa, soltanto per oggi, avendo partecipato a questo evento, se volete iscrivervi a un esame di certificazione, magari legato ad un corso, c'è una promozione che è OSD 2017, quindi basta mandare una mail all'indirizzo trainingdeckstraordi.com per usufruire di questa promo, che è l'omaggio dell'esame se prendete il corso o uno sconto molto alto sull'acquisto del corso stesso. Detto questo, io vi chiedo, avete qualche domanda? In ogni caso, se le domande vi arrivano in giornata, io sarò qui, quindi ben volentieri sono qui per rispondere. Grazie. 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 Grazie.